Saga! 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 Super Saiyan 4, ovvero riuscire a controllare il potere dello Zaru, mantenendo le sembianze umane. Inoltre Broly, quando attiva questa forma aumenta la massa muscolare, il colore dei suoi capelli non cambia, e le pupille si colorano di giallo, similmente a Goku, quando si trasforma in Super Saiyan 4. Saga!